Auditorium, i concerti di Ameria Radio. Buonasera e benvenuti all'Auditorium. Questa sera ascolteremo di Gustav Mahler, Das Lied von der Erde, Il Canto della Terra, Sinfonia per Contralto, Tenore e Orchestra, Nei suoi sei tempi, Il Brindisi dei mali della terra, Solitario nell'autunno, Della giovinezza, Della bellezza, L'ubriaco a primavera, Congedo, Contralto, Yvonne Minton, Tenore John Vickers, Con l'Orchestra dell'Opera Nazionale di Parigi, Direttore Pierre Boulet. Buonasera e benvenuti all'Opera Nazionale di Parigi, Buonasera e benvenuti all'Opera Nazionale di Parigi, Buonasera e benvenuti all'Opera Nazionale di Parigi, Grazie a tutti. 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 , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti. a tutti. , 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 a tutti.